grazie a essere noi tutti quanti dopo i casini ho combinato mi impegnerò ad essere più serio che cos'è quello di no e senza niente lascia la foto fammi la foto dai io ti insieme io passo io ti insieme io passo stai a fare i casini no no c'era paura no no si spegne ma che cos'è quella è la telecamera soffia poi dite con sta faccia da culo forza inter forza inter modi c'è una riva purtroppo non arriva modi non lo so speriamo mandami la foto è tuo amico anche amico modi telefona quando vieni luca ti aspettiamo soldi qui questo vuoi soldi ma tutti i personali di giocatore roberto perché tu non gli vuoi soldi no 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 lui non vuoi oh la notizia da abbiamo un mare bulgaria abbiamo un mare nero bulgaria a barnero non è sentiamo come ho fatto non è non è sardegna vero certo però è bello però ci sono i loro hotel la torta chi ha dato tutta la mafia russa la fatta a hotel che sembra che sta a maire sì 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 è bello tagli tu per caso la torta sì sì ci penso di dove è in bulgaria Sofia no la città di Stoczkov grande Stoczkov ah Stoczkov non me lo ricordo ho visto Stoczkov è da dubbio grande Rizzo Stoczkov è hamburgero ma chi se ne frega parla del contatto auguri ragazzi auguri auguri che auguri ragazzi auguri finanzii auguri di Serzang auguri a Ricciarecele che mi arrivi tra un po' no ma lui non si ha pensato ma ci sono tutti i paesi Europei ancora da battere c'è una Bolsonaro c'è una Bulgaria non si ha messaggio tu sei stato a Bulgaria angelo quando sei stato a Bulgaria vede? Andrea io ormai ho fatto però se per esempio vai in Bulgaria la fili dritto quando esce la peposta, c'è subito i videoi che ti aspettano con me così lungo questa faceva tutto quello che non la faceva, era finito però bene, è un bulgarismo ma là c'è di mani però